ciao a tutti bentornati in un nuovo video allora vedete questa diciamo ante prima che ho diversa dal solito per diciamo spiegarvi il video che andrete a vedere allora questa volta ho deciso di girare in cosa mangio in un giorno un po diverso nel senso che come avete come poi vedete non è un'unica giornata ma sono diversi pasti in diversi giorni quindi comunque ci sono dei pranzi e delle cene ma sono giusto appunto degli spunti delle idee per queste preparazioni estive visto che il caldo come potete vedere dai miei capelli legati che ora saranno perennemente legati è arrivato il caldo quindi non si ha tanta voglia di cucinare meno tempo perché comunque si ha più voglia di stare fuori poi io ho iniziato anche comunque il lavoro estivo quindi ho un po meno tempo più che meno tempo meno voglia dico la verità e quindi mi faccio vedere le preparazioni veloci alcuni magari richiedono ovviamente anche dei la cottura sul forno ma non delle cotture lunghe come facciamo in inverno ok quindi niente era così per farvi un salutino e niente quindi vi faccio vedere in cosa mangio qua e là durante l'estate quindi magari invece di fare un'unica giornata ogni tanto mi quando mi verrà in mente mangerò qualcosa che non vi ho mai fatto vedere ma cose non ricette parlo proprio di idee farò come ho fatto in questo caso no quindi ho deciso un giorno così senza nemmeno pensarci ok quasi quasi mi riprendo in questo momento quello che mangio quindi ho fatto così in diversi giorni infatti sono non so quanti clip ho girato ma sono proprio tutti i giorni diversi quindi niente infatti mancheranno appunto le colazioni perché la mia colazione adesso è comunque sempre la solita ho eliminato il tè perché fa troppo caldo e bevo il cappuccino quindi diciamo bevo il cappuccino e a volte secondo cosa vuole di mangiare mangio qualcosina però diciamo non non vedete più le colazioni e niente vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao allora la mia cena consiste ovviamente siamo insomma in periodo estivo si prediligono insalatone queste cose qua poi io sono un'amata anche in inverno quindi non oso farvi immaginare l'estate quante ne mangio per cui andrò a fare sempre con il classico petto di pollo che ora non ho ancora acceso perché sto aspettando comunque sia l'ora proprio di cenare la bimba intanto per fargli mangiare le verdurine come al solito che così non le mangia allora gliele frullo come il classico passato di verdura come quando era piccola che così almeno mettendoci due crostini e un po' di parmigiano me le mangia e sono contenta così d'altronde sono bambini e poi come insalata prendo questa che è simile all'insalata poker che si prende solitamente però questa è della Dimi di sì e è tagliata diversamente nel senso che c'è più sottile tipo questa qua che è radicchio qui c'è la rucola e qua c'è sempre tipo della mi sembra pan di zucchero e anche il mais anche se finora il mais ah no eccolo qua c'è qualcosa di mais ma penso che ce n'ho mezza lattina in frigo aperta e credo che andrò ad aggiungere anche quella adesso vedo un po' intanto sto tenendo il telefono in mano per cui scaravento il tutto poi ci vediamo con diciamo il mio piattino barra ciotola terminato ecco qua questa è la mia ciotolona io non so voi ma io quando mangio l'insalata adoro proprio mangiarla nella ciotolina allora quindi in sostanza avete visto quell'insalata in a mista ho riaggiunto un po' di mais che avevo aperto tre pomodorini piccarilli un cipollotto di torpea perché io vado pazza per la cipolla e appunto il tetto di bollo che non ne vedete tantissimo perché comunque la porzione che avete visto in padello ovviamente teneva conto per la bimba che ce l'ha nel piatto sta mangiando le sue verdurine e assente di stasera il marito che viene più tardi a lui farò sempre appunto un'insalata di pollo ma con un'altra insalata ovvero la tuchino poi lui ci andrà a mettere sicuramente anche la salsa Caesar quindi diciamo poi gliela faccio dopo per cui niente questa è un'altra idea è un'idea di un'insalatona e una cena diciamo pranzo estivo quindi comunque completo perché ci abbiamo tutto dentro e noi mangiamo anche questa cena buon appetito allora un'altra idea per un pasto completo e comunque estivo è questa qua ho fatto riso basmati con zucchine e gamberetti cotti ovviamente in padella con un filino di olio e cipolla poi aggiunto nel momento in cui andavo a mescolare ho aggiunto la feta non so se si vede qua dei pomodorini e del tonno al naturale che ora si è disperso perché comunque io ne ho fatto tanta quantità per mangiarci in più volte poi vabbè accompagnato sempre da frutta estiva in questo caso melone che adoriamo e niente questa è un'altra idea appunto per un piatto bello proteico sano e anche estivo in questo caso io lo sto mangiando tiepido ma per esempio domani mio marito lo mangerà anche a pranzo freddo quindi va bene sia caldo che freddo questa è un'altra ricettina veloce veloce allora un'altra preparazione di oggi quindi non vi dico se faccio pranzo o cena ma è solo per farvi vedere cosa mangio in più giorni diciamo in questo periodo di caldo e in questo caso comunque pranzo allora visto che comunque sia il marito mangia al lavoro l'avevo sistemato con voi avete visto che avevo fatto il riso basmati ecco l'avevo fatto in più e questo è il giorno dopo quindi lui è a posto la bimba ha la sua pasta ovviamente in cottura e io cosa ho deciso di fare? mi sono grigliata una melanzana di quelle piccoline ma che comunque mi fa un bel piattone e la uso come base poi andrò a metterci dell'insalatina questa qua che ho preso tagliata più sottile così crea meno volume altrimenti voi l'insalatina che avete l'alterata e fine voi questa qua in particolare c'ha anche il porro quindi da già un pochino di sabore io comunque amo cipolla, porro e via di squadrendo pomodorino e andrò a mettere qualche scaglietta di parmigiano poi andrò a condirlo e vi faccio vedere come il risultato finale e voilà questo quindi è il risultato finale vedete? io così ci faccio anche la brisaola in questo caso diciamo abbiamo fatto un piatto vegetariano non vegano perché c'è il formaggio in alternativa al grano a volte io metto la mozzarella però siccome che c'è ancora lo stracchino aperto da ieri quindi andremo a finire anche questo pezzettino di stracchino magari con due crostini questi qua così intanto li provo quindi questo sarà il mio pranzettino di oggi leggero e fresco semplice semplice ho riacceso giusto per fare un appunto come vedete ho finito di mangiare ho aperto questi qua ragazzi sono una droga perché io dico meno male che l'ho aperto alla fine quasi troppo che me l'ha rimasto solo qualcosa da raccogliere tipo scarpetta altrimenti mangio da con tutto il pacco perché sono fatti così sono tipo la baguette tagliata sottile e secca cioè sono ultra ultra buoni questi qua creeranno dipendenza salute Carlotta scusate creano dipendenza per veramente sono buonissimi vi consiglio c'è proprio il primo morso ho detto oh mio dio buonissimi leggerissimi yes allora eccoci qua con un'altra preparazione che vi faccio vedere direttamente nel piatto perché avrete già visto nel canale la ricetta del pollo quindi straccetti di pollo con i peperoni quindi questa era la mia cenetta andrò a accompagnarla dai mitici ormai insostituibili colostini del Lidl e poi andrò a mescolarci un pochino io l'ho fatto come dicevo nella ricetta diciamo semplice qualcuno ruba dal mio piatto e vabbè e andrò ad accompagnarci a mescolare un pochino anche all'interno del pollo questa salsina che è allo dolce perché avendolo fatto anche per la bimba il pollo sperando che i 20 anni in piattino non ho messo peperoncino o cose varie l'ho fatto normalissimo quindi aggiungerò un po' di quello per dargli la sversatina in più ora questa è una ricetta sì diciamo anche estiva logicamente ci porta a stare un pochino al fornello perché comunque la cottura non dico del pollo che è velocissima ma dei peperoni io l'ho fatta cuocere abbastanza perché io per averli belli cremosi quasi sfatti li ho cotti 45 minuti però il bello è che se diamo una buona pentola lasciamo a fuoco basso e possiamo non stare davanti al fornello quindi diciamo che ce ne siamo sul terrazzo al fresco e va bene così un piatto unico già bello che pronto e niente questa è la nostra cena di stasera o meglio la mia a proposito se volete potete accompagnarla anche a dei riso basmati per fare un piatto ancora più unico tipo fatto il mio marito stasera mangerà il riso basmati accompagnato dal pollo però senza peperoni cioè quindi un mix di cose vabbè ci vediamo magari con un'altra ricettina vedremo allora un altro dei miei piatti preferiti estivi è questo qua cioè pomodoro cetriolo peperone verde e cipollotto di tropea io diciamo solitamente ci faccio proprio pranzo nel senso che ne mangio anche molti di più per fare proprio un bel pasto perché ci vado proprio matta 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 oggi ne mangerò comunque un po' meno anche se è una bella ciotolina però andrò ad accompagnarli con due burger vegetali questi sono quelli dei leader che non l'ho mai mangiato sono le verdure grigliate visto che poi comunque stasera oggi ho lavorato stamani stasera non ho lavoro quindi ce n'erò tardi è giusto che il pranzo sia comunque completo di qualcos'altro e niente quindi ovviamente non ci sono ricette se non altro se non un'idea per chi non avesse mai provato questo mix provatelo perché è fenomenale per chi ovviamente è amante di queste cose noi ci mangiamo il nostro pranzetto a mia bimba come al solito pasta pomodoro ricottina e frutta ciao 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 ciao